Il 15 luglio del 2020 è uscito su Netflix il film Gli Infedeli. Questo film sarebbe dovuto arrivare nelle sale nei mesi scorsi, purtroppo poi, come ormai mi ripeto sempre, per colpa di questo terribile momento che stiamo vivendo, il film è approdato esclusivamente sulla piattaforma Netflix. Quindi è un dispiacere non averlo potuto vedere in sala, ma piuttosto che non vederlo me lo sono recuperato il giorno stesso. Questo film è diretto da Stefano Mordini. Stefano Mordini è un regista che io ho conosciuto cinematograficamente parlando con il suo film precedente, Il Testimone Invisibile, il remake del film Contratiempo. Se ricorderete la mia recensione definì quel film meraviglioso perché ai tempi era ancora quel Paolo che magari si lasciava troppo andare a giudizi positivissimi senza magari tenere a mente che in realtà si trattasse di un remake copia carbone dell'originale. Poi io l'originale l'ho recuperato solo in seguito e ne ho avuto conferma. Questo non vuol dire che il remake sia un brutto film assolutamente, ma non è certo meraviglioso perché l'idea non è originale e lo sapete nel corso degli anni è un po' cambiata la mia teoria riguardo ai remake. Quando un regista fa un remake perché ha qualcosa da dire ok, ma quando si prende un film e praticamente si ricopia pari pari, sì può piacere, può far venire voglia di recuperare l'originale, ma tutto sommato fa notare solo quanto scarseggino le idee. Quindi lo recensissi ora il Testimone Invisibile direi che è un film riuscito perché Scamarcio fu in parte davvero tutto, il cast fu bravo, ben ti voglio, però tutto sommato è anche un film che di originale non ha niente, quindi non riuscirei a lodarlo con tutte le mie forze come feci in quella recensione che comunque è reperibile sul canale. Nuovamente Stefano Mordini torna con un film e nuovamente torna con un remake, stavolta il remake è del film Gli Infedeli, il titolo è omonimo, del 2012, un film del 2012 francese. A differenza del Testimone Invisibile che riprendeva pari pari ciò che accadeva in contratiempo, il nostro Mordini per Gli Infedeli prende ovviamente la storia di base, cioè parlare di infedeli, però cambia totalmente la sceneggiatura e questa è una cosa molto interessante, una cosa che mi ha fatto piacere. Gli Infedeli del 2012 francese era un film a episodi dove in ogni episodio si raccontava l'infedeltà, in questo caso tutto uguale identico, con la differenza però che cambiano le storie, resta uguale il filo conduttore, cioè l'insieme di episodi dove si racconta l'infedeltà, però poi le storie sono diverse. Io non ho visto l'originale francese ma ne avevo sentito parlare anche perché è un film che mi ricordo qualche anno fa mi arrivava sempre tra i consigliati su Prime Video. Ero andato ad informarmi sulla trama degli infedeli e proprio ho notato la differenza negli episodi e questa cosa mi rende felice perché per una volta ci si rifà a un qualcosa di già esistente però si cambiano le carte in tavola. E devo dirvi la verità, questo Gli Infedeli mi è proprio piaciuto, è un buon film che vi consiglio, è stato un dispiacere non averlo potuto recuperare in sala, però tutto sommato è un film che sa divertire, che passa velocissimo tra l'altro e che secondo me denota la bravura di un cast che io apprezzo tanto perché abbiamo Riccardo Scamarcio che ritorna dopo Il Testimone Invisibile, poi abbiamo Valerio Mastandrea ma anche Massimiliano Gallo, Laura Chiatti, abbiamo Euridis Exxon, insomma abbiamo un cast di attori che io apprezzo e stimo particolarmente e devo dire la verità Stefano Mordini riporta nel team tante persone dal fotografo e così via già visti nel Testimone Invisibile e riesce a creare questo film a episodi che si vede che vuole omaggiare la commedia all'italiana di Risi, di Monicelli, quindi ecco è suonata anche un allarme perché questa cosa si vede che ha fatto piacere a qualcuno e hanno fatto suonare un allarme, stavo dicendo si vede che si vuole omaggiare la commedia all'italiana, altra cosa che mi fa piacere, certo siamo distanti dalla commedia all'italiana che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, fa piacere l'omaggio però non ci si avvicina a quei grandi capolavori di Risi, Monicelli e compagnia bella, fa sempre piacere però tentare e si tenta con un Riccardo Scamarcio in gran forma, con un Valerio Mastandrea in gran forma e soprattutto, c'è Valentina Cervi anche e soprattutto, sono episodi che restano impressi, sono episodi che riescano a divertire e sono episodi che vogliono raccontare l'infedeltà, l'infedeltà sotto varie forme, sotto vari aspetti, gli episodi si dividono ad esempio e possiamo parlare della donna che scopre una relazione extraconiugale del marito sbirciando sul cellulare, ricordiamo che alla sceneggiatura c'è anche Filippo Bologna quindi riporta un po' di quel che aveva scritto anche per perfetti sconosciuti mostrandoci il cellulare come questa scatola nera, come questa veramente ingegneria elettronica che può rovinare tutti, si serve per il progresso ma anche per rovinare tante relazioni, quindi se l'episodio inizia, se il film inizia con un episodio molto veloce con protagonista Massimiliano Gallo dove si scopre un'infedeltà grazie ad un telefono cellulare e poi continuano ad alternarsi altri episodi e la cosa bella è che nel corso degli episodi ci sono sempre gli stessi attori, gli attori che si alternano in ruoli diversi e quindi magari abbiamo Mastandrea, il personaggio di Mastandrea nel secondo episodio con la moglie e dopo anni e anni, dopo dieci anni di matrimonio forse si scopre che lui ha avuto un rapporto extraconiugale, no no non mi arrabbio, dimmi pure, dopo una serata con amici dove c'è il personaggio di Riccardo Scamarcio Fighaccione che ovviamente non si vergogna di dire che palesemente tradisce la ragazza, anche che tradisce la moglie, nonostante la moglie sia in cucina quindi non si vergogna, magari non ha nemmeno paura di farsi beccare, racconta così tranquillamente e quindi la moglie del nostro Mastandrea presa anche da curiosità dice ma scusa eh ma il tuo amico ha detto che non è possibile che dopo tanti anni di relazione uno non abbia mai avuto una scappatella, ma te ce l'hai mai avuta? Dai dimmi pure, non mi arrabbio, non me la prendo, dimmi pure e quindi ovviamente questo episodio porterà ad un finale dove poi forse le carte si ribaltano senza nemmeno spoilerare, potrete magari immaginare dove andremo incontro, a cosa andremo incontro e quindi una verità confessata, un perdono richiesto prima però magari di sentire se anche l'altra ha fatto qualcosa e quindi la situazione che si capovolge è una situazione tipica vista nella commedia italiana ma che è ben messa in scena da Mordini, soprattutto mi colpisce di questo film la fotografia, la sceneggiatura dove troviamo anche oltre a Bologna lo stesso Mordini insieme anche a Riccardo Scamarcio in veste anche di produttore non solo di attore in questo film, quindi riesce, diverte, gli episodi nel complesso in certi aspetti possono sembrare un po' tronchi ma sono tronchi perché il film non ha lo scopo di analizzare le conseguenze del tradimento, il film vuole solamente mostrarti come si viene alla scoperta di un tradimento, perché si tradisce ma poi non vuole stare dietro lì a raccontarti ora dopo due mesi la moglie ha perdonato il marito, la moglie si è rifatto una vita, no assolutamente no, quindi potrebbe lì per lì dar fastidio il finale tronco, no? Il finale tronco subito nell'episodio di Incipit te vorresti vederne ancora finale troncato, nel secondo episodio vorresti vederne ancora finale troncato, un episodio che poi termina con, dopo le varie confessioni, con una nottata di sesso, forse una nottata di amore più che di sesso che risolleva le sorti di un matrimonio ormai logoro, no? Mi viene in mente Woody Allen, Woody Allen ci ha giocato molto con questa cosa, no? Con il magari il sesso con altri riesce a risollevare il matrimonio, pensiamo a To Rome With Love oppure pensiamo ad altri film, sempre del maestro Woody Allen, dove poi le situazioni vanno diversamente, anche solo un giorno di pioggia a New York, sono due film che vanno a collimare insieme, un giorno di pioggia a New York e To Rome With Love, perché anche lì si parla di relazioni, si parla di tradimenti, però tradimenti che poi portano dei frutti, in un film in bene, in un film in bene sotto un altro punto di vista, perché ovviamente la coppia poi si separa, però a parte questo non sto ovviamente paragonando Mordini a Woody Allen, ma si parla di una cosa ripeto già vista e Mordini secondo me se la cava veramente molto bene e questo finale tronco è necessario perché ripeto non si ha la voglia di dire come andranno le cose dopo, intanto quest'allarme continua a suonare e a me fa piacere, già è caldo, come avrete visto oggi sono a Pistoia, sono tornato qua dai miei genitori, quindi la location è quella dei vecchi video e quindi sono qua e vi parlo così. Detto ciò, scusate per il sudore, mi sono fatto anche i capelli, se nei prossimi video rivedrete i capelli ancora non tagliati è perché li ho già registrati, ho tanti video preregistrati per insomma caricar, per essere di vostro, di vostra compagnia in questo periodo, quindi li caricherò piano piano e quindi non pensate che in un giorno mi siano già ricresciuti i capelli. Detto ciò, gli episodi continuano e quindi la confessione, poi c'è un altro episodio dove c'è il classico sfigato di turno interpretato da Scamarcio che ci prova con tutte, con tutte, anima vive morta quasi, ci prova con qualsiasi persona. Uno Scamarcio che si ritrova a questa convention di lavoro lontano dalla moglie e che ci prova con chiunque senza riuscirci e quindi lì raccontiamo il prototipo del maschio che vuole tradire, che ha voglia di provarci con tutte, quanti ne avete conosciuti così. Ed è bello secondo me come il nostro Mordini riesca a giocare con gli attori. Cioè se voi guardate lo Scamarcio dell'episodio precedente e lo Scamarcio dell'episodio successivo noterete che sono due personaggi totalmente diversi ma sembrano proprio interpretati da due attori diversi perché dove nel primo episodio, sempre con Scamarcio, lui era il figaccione bello, incamiciato, capelli ingellati, nell'episodio subito dopo si riesce a renderlo brutto con questi dentoni aperti, con questi capelli a fungo, con questo monosciglio. Cioè sembra veramente un attore diverso eppure è Scamarcio. È Scamarcio che è molto versatile secondo me, è uno di quegli attori molto spesso per moda criticati e non capisco perché, perché ok ha fatto dei film non riusciti ma è un bravo attore che io stimo parecchio, è totalmente diverso e quindi se uno potrebbe pensare sì vabbè dai mi hanno messo un episodio dove Scamarcio non conquista, non è veritiero. Invece è veritiero perché prendono l'attore e lo rimodellano, ci giocano sopra e quindi ovviamente anche il secondo episodio riesce con questo personaggio che continua a prendere due di picche, due di picche, due di picche, due di picche e l'episodio si concluderà con l'ennesimo due di picche perché racconta un prototipo di persona del presunto uomo che vuol tradire magari senza riuscirci. E poi gli episodi continuano dove nel film francese ogni episodio era diretto da un regista diverso, qua abbiamo sempre mordine e quindi poi continuano gli episodi, c'è anche secondo me l'episodio più bello è questo con un Mastandrea completamente calvo che è sposato e che inventando di andare a vedere le partite di basket avresti anche rotto i coglioncini, caro il mio insomma ultrasuono, stavo dicendo questo Mastandrea completamente calvo, quindi lì per lì non lo riconosci nemmeno sposato con la scusa di andare a vedere le partite di basket frequenta questo locale dove si fanno tante porcherie, è uno di quei locali similbordello anche se ovviamente non è riconosciuto dove fanno tutte le cose di nascosto, dove gira prostituzione e praticamente si diletta sempre in questa esperienza sessuale in cui nei vari buchi nel muro inserisce, indovinate che parte del corpo e dall'altra parte del muro, c'è una donna, una prostituta pronta a... avete capito? Ecco lui tutte le sere frequenta questo, quasi tutte le sere frequenta questo locale inventando di andare a vedere le partite di basket, di avere delle scene di lavoro e si innamora di questa donna al di là del muro, cioè praticamente lui si innamora di un buco alla fine perché non sa nemmeno bene chi ci sia dietro perché sì ci sono dei buchi per vedere ma capirete, si innamora di un buco e mi piace come mordini mostri il personaggio di Mastandrea che magari cerca di non pensarci ma qualsiasi passo faccia si trova davanti magari a una forma geometrica cubica, si trova di fronte a un qualcosa di circolare quindi ci pensa sempre, quindi fanno dei lavori e vede delle forme anche... delle forme che ricordano il buco dove lui ogni sera inserisce una parte del corpo e quindi magari che caspita ne so la moglie gli cucina l'osso buco e lui guarda questo pezzo di carne con il buco nel centro mi piace da morire come mordini mostri il contrasto fra questa immagine esplicita e un Mastandrea che si capisce che gli sale una voglia incredibile ma lo sapete Mastandrea è un attore molto pacato che lavora per sottrazione, minimalista nelle espressioni ma veramente è l'episodio più bello di tutti fino a che la moglie magari non lo scopre quindi scoprendolo c'è un finale, un finale ragazzi, un finale che fa capire che la moglie sa e fa capire a lui che la moglie sa e quindi lui forse, piccolo spoiler, entra nella notte, sì buonanotte amore, ti fa per tirare sulle coperte, entra nel letto e la moglie forse le ha fatto un buco nelle lenzuola da dove Mastandrea guarda e c'è il primo piano del suo volto che capisce che la moglie non solo ha capito ma che siccome l'aveva seguito forse ci fa intendere che dall'altra parte del buco stavolta forse sarebbe potuta esserci proprio lei, chi lo sa? E quindi c'è questa immagine di lui con la ticcina presa davanti, con la lenzuola, con il buco e questa faccia sorridente è un episodio che ho adorato per poi continuare con invece un altro episodio con protagonista in questo caso, l'ultimo episodio tra l'altro prima proprio di un episodietto finale ci sono episodi più corti e episodi più lunghi c'è l'episodio del prologo che è veramente cortissimo con Massimiliano Gallo e poi l'episodio dell'epilogo veramente breve dove si ritrovano tutti e tre gli attori insieme. Nel penultimo episodio, ultimo di quelli lunghi con Scamarcio e Laura Chiatti, veramente io mi sono divertito perché lì invece si parla anche inizialmente sembra che si voglia parlare delle magari donne fissate col tradimento e quindi delle donne convinte che siano tradite in continuazione. La Chiatti è in macchina e vede su questa bella macchina il suo marito dottore Riccardo Scamarcio con questa bella donna che proprio inizialmente sembra praticargli anche se è sorale in macchina quindi lei la segue segue la macchina li vede entrare in questo hotel va su bussa con tutte le forze che ha alla stanza di questa camera d'albergo la camera si apre appare questa donna ancora lì mezza nuda vede passare dietro vede passare dietro suo marito e quindi lei caspita aspetta a casa che arrivi gli ha già preparato le valigie per mandarlo via e lui si giustifica quando lei ovviamente gli è saltato ma cosa stai dicendo io ero al lavoro ma dai non dire che ero al lavoro ero e poi l'episodio prende prende una strada molto divertente perché Scamarcio comincia a dire hotel ma andiamo andiamo all'hotel dove mai visto quindi convince la moglie a seguirlo nell'hotel dove lei diceva di averlo visto all'hotel non solo non l'avevano mai visto non esisteva l'ascensore che lei aveva visto prendere a lui insieme a lei proprio perché l'ascensore è malfunzionante e la stanno ristrutturando alla reception non c'era nemmeno il ragazzo asiatico con cui laura chiatti ha parlato quando sono andati a bussare alla stanza dove lei aveva visto suo marito c'era un'altra coppia di stranieri quindi lei si convince di avere le visioni vanno da un dottore gli fanno tutti le fanno tutte le analisi previste e quindi dopo averle fatto le analisi consigliano anche un periodo di riposo in una casa di cura proprio per 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 riprendersi per riabilitarsi fino a che poi ovviamente andremo incontro ad un finale una sorta di the game no dove forse tutto con un po' di soldi era stato orchestrato era stato pianificato era stato architettato prima e forse il dottore con la scusa che la moglie è folle e e crede che sia fuori di testa continuano a fare i suoi porci comodi fino a che un giorno torna lui a casa e becca la moglie invece con un altro la moglie che subito si palesa di fronte a lui dice scusami non è come credi posso spiegarti tutto quello che hai visto non pensare che sia vero che cosa ho visto e c'è questo finale non ho visto nessuno e c'è questo finale veramente che colpisce perché si fa capire che scamarcio sta facendo il solito gioco che fino ad allora stava facendo laura chiatti cioè laura chiatti era convinta di essere pazza che non ci fosse nessuno la lui dice non ho visto nessuno e quindi come a dire entrambi l'abbiamo fatto però come io non ho visto come te non hai visto niente anche io non ho visto niente però come lei non ha visto niente lui ha fatto si ha la conferma che quindi ora laura chiatti ha la conferma che lui ha fatto scusate il gioco di parole un po intortato però è il caldo e poi c'è quest'ultimo episodio dei tre mariti che si ritrovano a parlare in questo ristorante guardando le varie donne si ritrovano a parlare con discorsi proprio da spogliatoio su chi si farebbero su sulle donne con cui andrebbero e andrebbe col 90 per cento delle donne bla 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 e quindi si parla di una realtà vera basti entrare in uno spogliatoio di qualsiasi palestra e così via sentirete dei discorsi che fanno veramente drizzare le antenne proprio schifare in certi in certi frangenti e quindi si mordini gioca gioca con l'infedeltà non è certo un'idea originale ma secondo me ci riesce un buon film divertente fatto bene con un buon cast mi piace l'accoppiata mastandrea scamarcio che dopo euforia tornano insieme spero di rivederli ancora insieme mi piace scamarcio perché è molto versatile idem mastandrea laura chiatti auridis axen valentina cervi insomma il cast è veramente ben diretto una fotografia in certi momenti che fa ricordare un film un po thriller perché si riporta tutta la troupe del testimone invisibile o perlomeno per quanto riguarda la maggior parte del team e che posso dirvi se lo volete vedere reperibile su netflix non vi aspettate il capolavoro però è un buon film che omaggio alla commedia all'italiana meglio film che omaggiano che film che magari si distanziano totalmente non riescano nel loro intento di divertire quindi io aspetto di sapere la vostra fatemi sapere qua sotto nei commenti peccato non averlo potuto vedere al cinema se inizialmente ero diffidente perché mi spiace sempre quando si tratta di remake una volta che mi sono reso conto che si tiene a mente solo l'idea di base poi si fa un qualcosa di completamente diverso allora ho detto meno male se proprio ci debbano essere dei remake è giusto che si faccia così io vi mando un grande saluto e vi ricordo che nelle info di questo video troverete anche il link per seguirmi su instagram facebook e dove volete voi un caro saluto ragazzi da pistoi e tutto buone vacanze aspetto di sapere la vostra ciao ciao ciao